Nacquane, in Val Camonica, è un sito molto importante per la presenza di numerose incisioni rupestri. Una passeggiata nel parco e puoi ammirare le splendide incisioni assai ben conservate nel tempo. La vita quotidiana della gente Camuna è qui ben rappresentata. La caccia e l'allevamento degli animali sono raffigurati con molta precisione. Le case, costruite su palafitte per proteggersi. Danze in cerimonia attorno al fuoco per propiziare la caccia. Scorrete sopra queste pagine di pietra, esse raccontano la storia vissuta dai suoi protagonisti.